Via Piave continua a essere teatro di risse e accoltellamenti. L'ultimo proprio questa notte, poco dopo le tre, è avvenuto qui nella zona dei Giardinetti. Un residente ha filmato la scena dalla sua finestra. Protagonisti due cittadini stranieri, poi entrambi denunciati. Uno, nigeriano 28enne, è stato ferito al braccio e alla mano e soccorso dal suo M118 portato all'ospedale All'Angelo dove è stato piantonato dalle forze di polizia e dimesso poco dopo. Un'aggressione senza gravi conseguenze in realtà, ma che continua a preoccupare i residenti ancora una volta svegliati di soprassalto nella notte. E con l'avvicinarsi della bella stagione sale il timore che si possa tornare ai gravi episodi della scorsa estate. È un disastro, non so, non ho parole, guarda proprio siamo presi male. Io la sera non esco mai perché non mi sento tranquilla, sempre per droga, sempre per io, anche per altre cose penso. Ma veramente non si può vivere così, ma scherziamo. Ieri sera che erano tre macchine di poliziotico a un parco, invece più avanti sono un disastro, sono 15-16 persone, ma po' di personaggi che sono di quelli bel grossi, bel che hai paura anche. Di notte adesso che si dorme le finestre e porti sono chiuse, invece quando è caldo d'estate non si dormono niente ragazzi. Perché c'è caos. E' caos, un grosso caos. Questo a una settimana dalla manifestazione con migliaia di cittadini che chiedono più sicurezza e con le successive dichiarazioni del sindaco Brugnaro che chiede invece pene più severe. Questo è l'ennesimo esempio che nonostante le dichiarazioni di facciata, nonostante i grandi sbandieramenti di attività, appostamenti, il controllo del territorio ancora deficita. C'è un accoltellamento alle 4 di mattina tra un gruppo numeroso di persone, evidenzia che ci sono zone del nostro territorio che sono completamente scoperte.